Volevo chiedere qual è l'illustrazione che ti è piaciuta di più? Ma di quelle fatte dagli altri o di quelle fatte da me? Ma quelle fatte da te? Ma in questo momento sono molto fiera del libro che abbiamo fatto insieme a Giuseppe, quelle degli animali, il labe degli animali.